Sono Federica Mazzocchi, sono una docente di storia del teatro del Dams dell'Università di Torino e abbiamo organizzato insieme ai colleghi Franco Prono, Antonio Pizzo, insieme a Massimo Scaglione, a Beppe Navello e naturalmente a Brachetti che è appunto il nostro, come dicevo, numero di centro, il nostro focus principale. Questo seminario di conoscenza sul teatro di varietà che rappresenta una parte fondamentale della storia del teatro italiano che caduta per un certo periodo nell'oblio per quel che riguarda gli studi e interesse anche dei corsi universitari e da qualche tempo tornata giustamente al centro dell'attenzione costituendo appunto una tradizione fondamentale di attori, di personaggi e di esperienze cruciali. L'aspetto teatrale, di Toro Le Quinte, come funziona, perché su questo non sono molto informato, ecco, e quindi è un approfondimento ulteriore. Io ero abbastanza oscuro di tutto quello che è il mondo del varietà, nel senso che ho tolto alcune cose che ho visto per televisione o seguito dal teatro. Sicuramente è interessante anche perché dà un aspetto storico, quindi mi è piaciuta questa cosa, soprattutto anche perché per me che ad esempio non ho visto lo spettacolo mi ha permesso di comprendere anche il percorso che ha fatto un artista come Brachetti e non solo, infatti mi aspetto che comunque riuscire a questo percorso più formato rispetto al punto di vista del varietà e riuscire a comprendere meglio queste cose. Noi intendiamo inserire il lavoro di Arturo Brachetti all'interno di un panorama molto variegato, molto composto e complesso come quello del teatro di varietà e quindi creare i giusti collegamenti, i giusti rapporti e far meglio risaltare, far meglio emergere l'estrema originalità e la grande vitalità che ha ancora oggi questa forma d'arte. Alcune di queste immagini sono state per fortuna raccolte dalle Techerai, dalla Rai oppure sono disponibili anche in rete che è diventata davvero una grande risorsa per tutte le forme di spettacolo e in tempi, alludo soprattutto ai frammenti di interpretazioni di Petrolini, nei tempi giusti i grandi registi italiani come appunto Blasetti hanno avuto la prontezza e l'intelligenza di fermare questi momenti fondamentali della storia del teatro lasciandocene quindi memoria.